Sono veramente sorpreso di essere qui presente, mi è stato consegnato questo premio e questo progetto è stato in carico per dar vita a una strada che va oltre del confine e abbiamo scelto l'architetto Ciol e ci ha fatto avere veramente un progetto che vuol dire molto per il nostro comune, c'è un notevole frequentazione, un notevole aumento per il patrimonio comunale. Come dico sempre il ruolo fondamentale, come lo dice anche questo premio, è il committente, l'architetto se non ha il committente è bravo, non può fare niente, può solo appiccicare delle belle immagini sul muro, però solo la realizzazione poi dà vita a una buona architettura e quindi c'è sempre il committente che ha il ruolo maggiore.